Nella notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Baracca a Vicenza per il crollo di parte del tetto di un edificio vetusto e abbandonato da tempo. Nessuna persona è rimasta ferita, parte dei detriti sono finiti in strada. I Vigili del Fuoco accorsi con due mezzi tra cui l'autoscala hanno effettuato un sopralluogo per escludere la presenza all'interno dell'edificio di persone senza fissa dimora. La zona sottostante all'edificio pericolante è stata fatta a transennare. Le operazioni di messa in sicurezza del luogo da parte dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa due ore.